Siamo nella Riviera Romagnola, conosciuta in tutto il mondo, esattamente ci troviamo a Riccione, la Perla Verde dell'Adriatico, il nostro ristorante è nel cuore della cittadina di Riccione, esattamente in piazzale Ceccarini, abbiamo davanti il Palazzo del Turismo e siamo proprio a due passi dal Palazzo dei Congressi. Riccione è una città sempre al passo con i tempi e quindi anche noi cerchiamo sempre in prima persona di avere sempre proposte nuove, di avere una cucina tradizionale ma anche innovativa e insieme al nostro chef di avere piatti comunque nuovi e ricercati. Il ristorante Cristallo è amato non solo per la posizione ma ovviamente per la nostra cucina. proponiamo, come dicevo, piatti della tradizione ma anche piatti innovativi. Uno dei nostri punti forti è lo spaghetto alla carbonara di pesce, è molto apprezzato dai nostri ospiti. Abbiamo la possibilità di proporvi i crudi di pesce, quindi le ostriche, il tonno, la tartare di baranzino, non manca la pasta fatta in casa, il classico tortellino, il tagliolino di pesce, la piadina, i piatti della tradizione e cerchiamo di avere sempre piatti freschi, il pesce fresco. Abbiamo anche la pizzeria, la pizza al kamut, pizza biologica e cerchiamo sempre di avere un occhio in più per i nostri clienti. Sono benvenuti i miei clienti con le ciliachia e quindi abbiamo una cucina curata appositamente per loro. Vi aspettiamo per provare i nostri piatti e la nostra cucina. Il ristorante Cristallo è un ristorante che viene gestito dal 1987 in prima persona da Giorgio, mio padre, e oggi è aiutato da me e da mia sorella. La mamma segue la cucina, quindi è una gestione prettamente familiare. Siamo aiutati ovviamente dal nostro staff, ci teniamo tanto perché siamo noi in prima persona a curare i nostri clienti, cercare di fargli passare una piacevole serata, un buon pranzo e abbiamo molto piacere di ospitarvi qui al ristorante Cristallo. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!